In via Matteotti a Sala Consilina per parlare di bimbi perché anche per loro c'è uno spazio dedicato ed è il più dolce dell'anno perché il Natale è quasi tutto dedicato a loro. Allora tuffiamoci nel mondo di IDEXE perché questo è un appuntamento che si rinnova ogni anno e io devo raggiungere, seguitemi Michele. Ciao Michele come stai? Ciao, molto bene. Allora questo caldo Natale, questo 2014 che trova ancora protagonisti bimbi e per tutti, non solo a maschile ma anche a femminile, quali novità ci potrebbero essere per quest'anno? Novità ci sono continuamente nel campo dei bambini e io non mi voglio dilungare in questa occasione per pubblicizzare tanto la mia attività. È un modo carino per fare attraverso questo strumento che è la televisione, gli auguri di cuore a tutti il pubblico, che siano piccoli, che siano grandi, che siano più anziani. Le sorprese le potranno avere quindi qua quando verranno. Esatto, noi vogliamo soltanto che possano vivere bene, stare in buona salute, magari attraversare questo periodo di crisi nel migliore dei modi. E se magari qualcuno ha un'idea di acquistare qualcosa per i propri figli o per i piccoli amici o per qualche parente, noi siamo qui per cercare in tutti i modi di accondentare i vostri bisogni e più che altro di dare la nostra collaborazione, la nostra cortesia e tutto ciò che possiamo fare per essere al vostro servizio. Di certo più luigi, i miracoli non li possiamo fare. Ma nemmeno non c'è neanche provato? Ti stai attrezzando per i miracoli? Beh sì, ci sto provando un pochettino. Devo capire dove più che altro devo fare questi miracoli, ma ci devo provare. Facciamo un esperimento? Proviamoci dai. Sei pronto? Sì. 3, 2, 1 E' riuscito questo esperimento, questo miracolo? Ma, devo dire la verità, per lui non è proprio quello che volevo. Non è che l'ha arrivato benissimo, eh? Infatti è riuscito solo a testo un miracolo, mamma mia che sono russi. Comunque, diamo gli auguroni a tutti. Auguroni di cuore a tutti, un destinamento a tutti, di buon anno, buona epifania e felice anno 2015. Per i miracoli vi aspetta Michele in via Matteotti a Sala Consigna e Naconitex. Per i miracoli vi aspetta Michele in via Matteotti a Sala Consigna e Naconitex.